Buongiorno Buongiorno ragazzi, oggi è una vera giornata particolare per questo vi voglio raccontare la storia di Hans, il bambino con la paniccia siamo curiosi maestro, continua Hans aveva 10 anni proprio come voi andava a scuola e giocava, adorava studiare era un bambino come noi, me lo immagino alto, buono e paffuto con grandi occhi azzurri e un sorriso bellissimo aspetta, non interrompere maestro, che cosa aveva di spesare a Hans? perché ci racconti la sua storia? era speciale perché era un ebreo, ma così veniva definito un ebreo? da quando gli ebrei sono speciali? non si fa differenza né di razza né di pelle non è stato sempre così perché nella seconda guerra mondiale a capo d'opera tedesco Hitler furono ordinate le leggi raziale e deportazioni che oggi ricordiamo con il nome Shoah certo, anche Hans fu vittima dell'olocausto per questo è speciale agli ebrei fu tolto l'eccesso e l'istruzione alle biblioteche e anche l'opportunità di lavorare, ma soprattutto la loro dignità un periodo storico davvero orribile, fatto di violenze, campi di concentramento ingiustizie e soprusi bravissimi, riflettete, allora Hans poteva essere uno di voi oggi rimane la sua valigia con dei ricordi e il ricordo è fondamentale, ogni anno il 27 gennaio ricorre il giorno memoria per aprire i nostri cuori e fare in modo che ciò non avvenga più sì, maestro, è importante conoscere e ricordare per non sbagliare è importante che tutti sappino dobbiamo fare in modo che il giorno della memoria non sia solo il 27 gennaio ma tutti i giorni, dobbiamo essere portatori di pace bravi ragazzi miei, Hans sarebbe fiero di voi ragazzi guardate queste immagini, parlano della Shoah e beh, molto bene sono state deportate nei campi di concentramento il campo di concentramento più crudele è quello di Auschwitz Primo Levi era uno scrittore italiano è sopravvissuto ai campi di concentramento e scrisse un libro se questo è un uomo Anna Frank era una bambina ebrea il suo diario viene letto dai bambini di tutto il mondo Cristo fu un uomo cattivo che condannò tantissimi ebrei ho voluto colorare la mia tela di rosso con queste mani per ricordare le vittime ti piace la mia idea? sì, mi piace molto la tua idea, invece ti piace la mia? sì, molto, mi spieghi cosa è rappresentata? ho rappresentato due bambini che cercano di scappare dal campo di concentramento di Auschwitz invece mi piace la mia, ho rappresentato una stella con sopra la stella che non brella per rappresentare tutti i bambini che sono stati uccisi mi piace la mia, ho rappresentato due bambini che sono stati uccisi oggi ricorda la giornata della memoria per ricordare tutte le vittime innocenti della Shoah ricordare non è semplice ma è necessario affinché non succeda più nulla del genere questa mostra vi farà aprire gli occhi e il cuore e buon proseguimento una farfalla perché le farfalle hanno la libertà e spero che anche gli altri hanno la libertà come libertà spiegare la Shoah è difficile e per non turbare i nostri piccoli alunni di prima abbiamo evocato queste immagini colorate per rappresentare un seguito di pace le loro opere d'arte colorate contrastano anche con i loro tristi pigiomini a righe quindi in seconda hanno allenato e lavorato i loro avventi hanno scritto sostegno e lucenti i loro pensieri sulla Shoah per i bambini che oggi non ci stanno prendendo leggeteli e fate di ognuno un tesoro la libertà non è sopra un albero non è neanche il volo di uno stuone la libertà non è una cosa solidero libertà, acqua e anticipazione voglio essere libero, libero e un uomo come dei veri storici sono andati alla ricerca delle vecchie cronache e hanno stampato delle foto e hanno fatto un cartellone significativo quanto sono brutte parlando della Shoah molto in me sono morti nei campi di concentramento il campo di concentramento più crude è la quella di Auschwitz guardate questi articoli vecchi, leggeteli Anna Frank era una bambina ebrea ed è stata deportata da Auschwitz e i bambini di tutto il mondo possono leggere il suo diario Primo Levi era uno scrittore italiano si è suscitato nei campi di concentramento e ha scritto un libro, sequesto un uomo Adam Pitler era un uomo cattivo aveva governato la Germania dal 1933 al 1945 Stiamo insieme per non dimenticare